Spolerare senza spolerare? Cioè? Eh? Lavo quindi Eh? Oddio, che si fa? No cazzo Oh, ma hai ordinato i 100 sashimi? No Cazzo No, 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 che combate? No, sono tutte cuffie Mannaggia la maronna E' un buon stesso fatto? Eh? Ma lo so, difettoso No, non sento che una parte, ah Oh 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 Ma ciò cazzo, si son rutt, ah Porco, è cucchia Si sento una parte, ah Io mannassato Paga No, ma come è possibile, stanno rotta Non hanno abbiato una botta, non hanno abbiato niente Ma così è possibile farsi rompere il cuffio Boh Boh Lì giù Oh, che c'è? Oh Ma siete? Eh, ti sento Voi documenti del piacere? Come è possibile? No, che sono rotta Non ti so dire, è generale Ma come è possibile? Sembra da sta parte Eh, io so Io ne capisco Meno di Ti attravi una cuffia sola Eh, una cuffia sola Eh, allora lo uso senza cuffia Scusi Ecco può fare Una funziona Ti arrangi con una Compre, chiedi il resto e prendi una Sire, Sire, Sartic o Razer Se no è più affidabile E' un difetto di queste cuffie E' successo pure al mio cognato Il sole di 770 Alex Alex Rango F1 Avanti Non muore rilevo le cuffiette eh perchè non me ne rilevo le cuffiette oh 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 aperto il clavetto oh vediamo eh c'è possibile mai con il computer lo tengo da un metro non piglio bluetooth Giona mi senti? no devi metterla in modalità ricerca mi pare che devi mettere nello scatolino tu c'hai qualche pulsante sullo scatolino delle cuffie? ma non mi sente? dai mi sa che non mi sa dove è già ciao aperto il clavetto no come ho già fatto ma poi vai paga mi viene delle cuffie buone per comprarle che le compro delle cuffie buone che non le compro cioè non hanno cioè non hanno una botta non hanno un graffio non hanno niente com'è possibile che si rompa delle cuffie così per senza niente mi dite voi com'è possibile? io perciò la devo prese senza filo però senza filo purtroppo non ci sono per il computer per il mixer non ci sono eh mo mi sono abituato a sentirmi in cuffia ragazzi eh mo mi sono abituato non va bene non va bene sono rotte l'ho collegato al telefono sono rotte ma lo non capite porco dio cioè non ci posso creere com'è possibile si è rotto senza toccare nessun filo ma è quella cosa che mi stupisce cioè non cioè non è possibile bene ciao ciao